Baci chiede un voto utile per il Paese. Il voto al Centro Democratico è un voto utile, è un voto intelligente, perché è impegnato a costruire una collezione di governo in grado di avere stabilità al Paese. Il Paese può uscire dalla crisi attraverso profonde riforme strutturali che diano speranza al futuro dell'Italia.